Nei romanzi di James Bond, lo 007 era il miglior gambler dell'MI6. Il suo gioco preferito era il Baccarat, ma conosceva anche una strategia per la roulette che potete usare subito per vincere dei soldi. La cifra massima utilizzata da molti per questa strategia è 200 dollari, ma potete aumentarla o diminuirla a seconda del vostro bankroll. Per usare questa strategia dovete solo ricordare tre puntate. La numero uno, scommettete 140 dollari sul 1936. Puntata numero due, puntate 50 dollari su sei numeri, dal 13 al 18. E puntata numero tre, scommettete 10 dollari sullo zero. Questa è un'ottima strategia, perché così coprirete tantissimi numeri. Se uscirà un numero tra il 19 e il 36, guadagnerete 80 dollari. Se uscirà un numero tra il 13 e il 18, ne guadagnerete 100. Se uscirà lo zero, guadagnerete ben 160 dollari. Se uscirà un numero compreso tra 1 e 12, perderete la scommessa. A questo punto Bond consiglia di usare il sistema Martingale e raddoppiare la scommessa finché non vincerete. Ma questa è una strategia avanzata, quindi utilizzatela con molta cautela. Godetela finché dura, questo è proprio il mio motto. Visitate casinotop10.it per ulteriori consigli sui casinò.